Siamo qui nello stand di Mauro Gasperi, uno stilista bresciano che ha vinto il concorso Fashion Incubator con la Camera della Moda l'anno scorso, che gli ha permesso di sfilare durante il Milano Moda Donna, ha sfilato con questa collezione per la terza volta, qui appunto c'è la Primavera 2011, al primo acchitto, si vede che anche in questo caso lui è lineare, minimalista, ma con la cura del dettaglio. Il suo punto forte anche in questo caso sono gli abiti, come per il manichino che si vede, abito in chemisia, in cotone, stretch e la maglieria. I colori sono tenui, lui ha preso ispirazione in questo caso dall'osi del deserto, quindi verde timo, bianco e cru e beige, ovviamente completamente made in Italy, sia il tessuto sia la produzione, c'è solo un 20% di tessuti che sono francesi. Il suo punto forte come tessuti sono sempre il cotton stretch, il cotone pesante per i tailleur e il lino viscosa e viscosa in generale per la maglieria. In questo caso ho preso ispirazione sempre dal suo punto forte stilistico che sono le nervature e spessori. Io ci tengo semplicemente a dire che Mauro sta crescendo e che ha un monomarca a Brescia nella sua città natale.